La tutela della salute dei lavoratori passa attraverso una conoscenza perfetta della legislazione. Ben lo sa ONA, l'osservatorio nazionale contro l'amianto, che tutela la salute di chi ha lavorato in posti insalubri, mettendo spesso a repentaglio la propria esistenza. Quali sono i reati e quali i capi di imputazione a cui va incontro chi non tiene in debito conto la sicurezza dei propri lavoratori? Ne abbiamo parlato con l'avvocato Lucas Barbesino, che ci spiega nei dettagli quali sono le sanzioni a cui va incontro chi non rispetta le più elementari norme. Parliamo di Osservatorio nazionale per l'amianto e vediamo, diciamo così, cosa fa questa associazione proprio legata a questo genere di attività. Allora, l'Osservatorio nazionale per l'amianto, come dice il suo stesso nome, a livello nazionale e parla di tutte quelle che sono le problematiche inerenti all'amianto. Qua sul territorio di Asti c'è una sede dell'Osservatorio nazionale, che è la sede sia provinciale di Asti che il coordinamento regionale, quindi per la regione Piemonte. Noi ci occupiamo di amianto a 360 gradi, quindi da tutte le persone che sono state coinvolte direttamente con l'amianto, voi per lavorazioni, quindi perché sul posto del lavoro o producevano anni addietro amianto, oppure sono in contatto ancora con materiali che contengono amianto o sono fatti da amianto, voi oppure semplicemente privati cittadini che nella loro vita di tutti i giorni hanno a che fare con l'amianto perché sugli immobili vicini, che siano industriali oppure civili, c'è l'Eternit e quindi ci può essere una dispersione di fibre e quindi una contaminazione da agente patogeno che è proprio morbigeno, che è proprio la fibra d'amianto di per sé. Chi si avvicina all'osservatorio? Cioè che cosa chiede? Ma generalmente chi si avvicina all'osservatorio sono persone che purtroppo conoscono già bene la problematica dell'amianto sulla loro pelle, cioè che hanno avuto già delle vittime in famiglia a causa dell'amianto oppure che loro stessi sono ammalate per patologie derivanti direttamente dall'esposizione all'amianto. Quindi generalmente abbiamo, inizialmente avevamo solo questo genere di persone che veniva a chiederci una mano proprio perché si sentivano assolutamente inascoltati da quelle che erano le associazioni già presenti sul territorio ma soprattutto dallo Stato e dagli enti che dovrebbero essere preposti a salvaguardare la tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute. Ora possiamo dire che i nostri iscritti si sono un pochino modificati proprio perché la sensibilizzazione anche grazie a processi noti come quello Eternit a Torino è riuscita a portare nelle nostre file anche delle persone che non sono direttamente coinvolte nel fenomeno amianto ma che vogliono finalmente porre, mettere una parola a fine a quello che forse sarà il killer numero uno di persone da qui nei prossimi vent'anni. La salute nel mondo del lavoro è una cosa fondamentale e importante, ma che cosa si rischia nel momento in cui si va incontro in questi casi? C'è un reato penale per disastro ambientale? Allora, il reato nel momento in cui il codice penale non ha una previsione normativa specifica per quanto riguarda il reato di amianto, di spargimento d'amianto oppure di contaminazione dell'amianto. Tuttavia ci sono due norme del codice penale, una che è stata fatta e costituita per la protezione del luogo di lavoro e quindi tutte le norme e tutti i dispositivi di sicurezza che si devono attuare sul posto di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori, mentre invece l'altra è quella posta, possiamo così dire, a tutela dell'ambiente da ogni eventuale disastro che si possa creare all'ambiente. La prima, quella per quanto riguarda i lavoratori, è una tutela sia per quanto riguarda un reato doloso che un reato colposo, quindi non ci si può nascondere il datore di lavoro che ormai ha conoscenza dei rischi che ci possono essere nella lavorazione dell'amianto, non può dire io non sapevo, non conoscevo i rischi, non ho adottato le misure idonee, perché sarebbe imputabile sia per colpa che per dolo. Possiamo dire che le pene sono comunque pene severe, perché in questo caso si va da una pena che può andare da sei mesi di reclusione fino a cinque anni, mentre invece nel caso in cui non solo si metta a rischio la salute del dipendente, ma bensì si crei un infortunio al dipendente, ossia che il dipendente poi si ammali per patologie legate all'amianto, allora a questo punto la pena praticamente si raddoppia, quindi si rischiano fino a 12 anni di reclusione. Quindi sono reati, devo dire, abbastanza sottovalutati in questo campo. Lo stesso discorso vale per il reato ambientale, che è l'articolo 434 del codice penale, che ci dice che chiunque dolosamente cagioni un qualsiasi disastro, e per disastro può essere anche solo il tetto posto su un edificio, che ormai è un tetto sfaldato, che sparge amianto, fibra d'amianto, nell'arco di 5 km quadrati, ecco questo può essere considerato un disastro. Quindi anche qui le pene sono severe, si va da 1 a 5 anni nel caso di semplice messa in pericolo della salute dell'ambiente e della salute dei cittadini, e si va invece nel caso in cui ci sia un rischio effettivo, cioè si siano creati veramente dei danni sia all'ambiente che alle persone, alla salute delle persone, anche qui la pene è fino a 12 anni di reclusione. Quindi come vediamo le pene sono severe, anche se a dire la verità normalmente in tutte le nostre città le amministrazioni procedono non tanto in via penale, ma in via amministrativa. Quindi preferiscono delle semplici segnalazioni di vuoi smaltimento, vuoi di messa norma dei tetti, al posto che procedere con quella che è la via più dura e forse la via più efficace che sarebbe quella della tutela penale. Se invece un'azienda, diciamo così, di essere operativa, un'azienda ha chiuso qualche anno precedente, c'è modo anche di intervenire su aziende chiuse? Ecco, questa è un'ottima domanda perché molti lavoratori che lavoravano presso aziende che producevano amianto o che lavoravano presso aziende in cui pensavano ci fosse l'amianto, vengono da noi e ci dicono eh ma non si potrà fare più niente perché ormai l'azienda è chiusa e fallita. Niente di più sbagliato, anche perché la responsabilità penale non segue la ditta ma segue bensì gli amministratori della ditta, proprio perché è una responsabilità professionale. Quindi a tutte quelle persone che hanno lavorato a contatto con l'amianto e pensano di non poter avere una tutela, io rispondo che invece la tutela possono averla, anche perché questi reati godono di una prescrizione molto lunga e soprattutto se ci sono delle lesioni o ancora di più se ci sono poi dei morti causati da questa tipologia di agente patogeno, possiamo così dire che la prescrizione è pressoché inesistente ma soprattutto sono reati procedibili d'ufficio, quindi a prescindere da segnalazioni per quanto riguarda le querele da parte delle persone. Quindi nel momento in cui si viene a conoscenza che ci possa essere stato questo possibile reato, la procura andrà avanti possiamo così dire da sola fino a verificare se c'è stata una responsabilità oppure no. La domanda era appunto quella della prescrizione ma allora diciamo così uno per avere diciamo possibilità di poter operare diciamo iniziative in questo genere cosa deve avere? Libretto di lavoro, testimonianze? Allora in questo caso deve avere, deve riuscire a documentare quello che è attraverso il suo libretto di lavoro dove lui ha lavorato e generalmente nel libretto di lavoro le aziende hanno sempre comunque indicato quelli che erano i rischi a cui poteva essere esposto il lavoratore. E' chiaro che se l'azienda non ha mai dichiarato di essere portatrice di amianto al suo interno è difficile che il lavoratore ce l'abbia sul libretto ma nel momento in cui il lavoratore dimostra di aver lavorato in quel posto e in quel posto si riesce a stabilire che c'era effettivamente l'amianto e non c'erano delle tutele a favore dei lavoratori a quel punto potrà avere giustizia sia dal punto di vista penale che poi da un punto di vista diciamo civilistico di risarcimento del danno. Una cosa che può essere fatta singolarmente oppure attraverso anche i gruppi, le cosiddette class action? Allora sicuramente può essere fatta singolarmente, è chiaro che soprattutto in questi casi in cui magari si parla anche di aziende che sono molto importanti e soprattutto che hanno un potere economico e politico molto alto, forse la strada principale è quella della cosiddetta class action, proprio perché si riesce a dare anche a livello mediatico un impatto alla situazione che potrebbe costringere effettivamente forse più ancora della possibile e probabile sanzione penale le aziende e le ditte a risolvere il problema, sempre considerando che secondo me l'obiettivo finale non deve essere quello solo del risarcimento ma bensì quello di finalmente eliminare questa possibile fonte di contagio e insomma di contagio per la salute dei lavoratori ma anche dei singoli cittadini. E il ruolo di ONA in tutto questo? Il ruolo di ONA in tutto questo è proprio quello di, possiamo dire, catalizzatore di queste esigenze, di queste istanze, dei lavoratori, dei singoli cittadini, proprio riuscendo a unire quelle che sono le voci di piccole persone, di poche persone, parlandone, organizzandoci soprattutto a livello nazionale, anche perché alcune multinazionali hanno sedi in tutta Italia, grazie a questo lavoro di organizzazione non riusciamo e tuttora sul territorio abbiamo diverse cause aperte, proprio delle claxation, riusciamo a dare quella tutela che spesso i lavoratori non pensano di poter avere, anche perché si sentono veramente il Davide, il Davide contro Golia. Ecco noi diciamo che siamo la pietra di Davide contro Golia e possiamo già dire che in diverse occasioni la nostra voce non è stata inascoltata. E quindi per avere informazioni dove ci si può rivolgere? Per avere informazioni si può andare sul nostro sito internet che è www.onaonlus.it sul quale si possono avere tutte le informazioni di ONA e anche le relative sedi, proprio perché i distaccamenti territoriali forse sono il primo baluardo, proprio perché si riuscirà a conoscere le singole storie, perché poi il nostro lavoro è fatto di storie e quindi si possono contattare le relative sedi per avere quella che è un primo parere legale, una prima assistenza, senza dimenticare che il nostro osservatore nazionale per l'amianto soprattutto offre assistenza sanitaria gratuita. quindi abbiamo la possibilità di dare ai nostri associati che lo richiedono tutte quelle che sono il top dell'assistenza sanitaria in questo campo che è soprattutto quello preumologico dovute alle malattie asbesto correlate.